Siamo emozionati, una grande responsabilità hanno detto al termine della votazione in aula. 8 preferenze per il leader del Movimento 5 Stelle, 6 a testa per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio, giallo per il voto appallante. Coronavirus 798, nuovi contagi, 226 positivi al molecolare e il resto agli antigenici, processati oltre 5.000 tamponi, tasso di positività al 14,9%, un ricovero e una dimissione in malattie infettive. Ghiaccio e neve hanno fatto ripiombare Castelpizzuto nell'isolamento, la bretella è impraticabile, la protezione civile conduce i cittadini dal parcheggio a valle sino al paese, una situazione paradossale indegna di una nazione che si definisce civile. E' scomparso all'età di 65 anni il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il cordoglio del Molise. Auto contro tir sulla tangenziale est di Campobasso, ferita una donna. Infine lo sport, il calcio, buone notizie per il Campobasso, due dei cinque positivi si sono negativizzati e sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo la guarigione dal Covid. Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con le news di Teleregione, lo avete sentito dai titoli, oltre 700 nuovi contagi tra positivi al molecolare e al test antigenico. Ne parleremo tra pochissimo perché vogliamo dedicare l'apertura di questa edizione alla nomina dei tre grandi elettori del Molise che il 24 gennaio parteciperanno alla seduta comune delle Camere per l'elezione del nuovo capo dello Stato che sarà il successore di Sergio Mattarella. Ebbene, sono stati nominati dal Consiglio regionale Donato Toma, Salvatore Micone e Andrea Greco. Vediamo come è andata oggi pomeriggio. Tutto come da previsioni, Toma e Micone per la maggioranza, Greco per l'opposizione, andranno a Roma il prossimo 24 gennaio per partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Lo ha deciso il Consiglio regionale con votazione segreta, riunito in modalità mista a causa Covid. E l'accesso al sistema elettronico ha creato qualche rallentamento nell'espressione di voto e forse anche qualche problema nella scelta della preferenza. Dallo spoglio, infatti, sono emersi sei voti per il governatore, sei anche per il Presidente del Consiglio regionale, otto per il leader del Movimento 5 Stelle e uno per l'assessore Quintino Pallante. E qui c'è il piccolo giallo. Da chi è arrivato il voto per l'esponente dei Fratelli d'Italia o è stato un mero errore? Da uno dei dissidenti, Iorio Romagnolo, con quest'ultima che dopo tanto tempo si era rivista la sera prima a una riunione di maggioranza esprimendo dapprima la volontà di essere nominata grande elettrice e poi adeguandosi alla linea del centro-destra. Retroscena parte dopo lo scrutinio foto di rito per i tre molisani che parteciperanno alla riunione del Parlamento in seduta comune. Tom ha confermato che sosterrà Berlusconi. Micone si adeguerà alle indicazioni dell'Udc. Io se Berlusconi, se Silvio Berlusconi vorrà candidarsi, come mi pare di aver capito, il mio appoggio, ma penso anche quello del presidente Micone, della quota maggioranza, sarà per Silvio Berlusconi. E io l'ho sentito una settimana fa, mi ha chiamato, abbiamo parlato di questa situazione, di questa sua intenzione e io gli ho espresso la volontà, ma in qualche modo, anche se non fossi stato eletto, avrei auspicato il sostegno per Silvio Berlusconi. Vado a Roma su indicazione di voto della parte della maggioranza di centro-destra, quindi andrò a Roma e seguirò le indicazioni di quella parte politica, del centro-destra e ovviamente dell'Udc, il gruppo politico a cui appartengo e quindi dove sarò seduto tra quei banchi. E quindi aspettiamo le indicazioni e andremo sicuramente in quella direzione. Potrebbe essere Berlusconi? Beh, le voci di questi giorni parlano del presidente Berlusconi. Berlusconi. Vedremo se sarà confermata da lui stesso e dalla coalizione centro-destra oppure se indicheranno un nome diverso. Un emozionato greco, espressione dell'alleanza ormai di fatto 5 Stelle PD, è su una lunghezza d'onda completamente diversa. Sicuramente vi posso dire per chi non voterò, non voterò per chi a mio avviso non ha certamente ricoperto ruoli anche politici con dignità e onore così come la Costituzione prescrive e prevede, per cui certamente quello che non farò è questo. Poi quello che invece, quali sono i nomi che si avanzeranno, chiaramente questo si vedrà solo nei prossimi giorni. Cioè non voterà Berlusconi? Draghi lo voterebbe però? Ma questo bisogna vedere se lo appoggerebbe il movimento intero, insomma non lo so, sicuramente Berlusconi, insomma nemmeno a dirlo. Credo che se il movimento mi dovesse porre di fronte alla scelta di votare Berlusconi deciderei di lasciare il movimento senza ombra di dubbio, ma questo non accadrà mai. Il Consiglio regionale si era aperto con un minuto di silenzio in omaggio a David Sassoli e all'ex assessore Luigi Velardi. Come annunciato facciamo il punto sulla pandemia con i dati resi noti dall'ASREM, il bollettino giornaliero che delinea il quadro dell'emergenza. Ebbene sono 798 i nuovi contagi, 226 positivi al molecolare, 572 all'antigenico, quindi sono oltre 5.300 gli esami refertati, 1926 dall'ASREM, più di 3.000 da farmacie e lavoratori autorizzati. Il tasso di positività sfiora il 15%, c'è stato un nuovo ricovero all'ospedale Cardarelli, al momento i degenti complessivi sono 24, di cui 2 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccinati, 10 dei pazienti ricoverati non risultano vaccinati. E a proposito delle dosi somministrate oggi dall'ASREM, sono ben 3.158, questo sulla base del report che ha inviato la stampa proprio l'azienda sanitaria. Quindi più di 3.000 dosi somministrate anche oggi. E a proposito dell'andamento della pandemia, 12 nuovi casi registrati a Montaquila e c'è il monito del sindaco Marciano Ricci che ha voluto rivolgersi direttamente ai cittadini e sottolineare come ci troviamo nel pieno della quarta ondata. E quindi il sindaco Marciano Ricci chiede alla popolazione onde evitare ulteriori misure restrittive, quali ad esempio la chiusura delle scuole, di mantenere alta l'attenzione. E rinnovo l'invito a rispettare tutte le regole conosciute, dice il sindaco Ricci, per contenere la diffusione del virus, invito quindi a vaccinarvi. Inoltre chiedo ai cittadini che dovessero manifestare sintomi riferibili al covid di comunicarlo, oltre che al proprio medico di famiglia, anche a me per il tramite della polizia municipale. Ricordo che in questo momento è necessaria la collaborazione di tutti al fine di salvaguardare la salute della comunità. Queste le parole del sindaco di Montaquila, che chiede maggiore attenzione, quindi di indossare la mascherina, di osservare il distanziamento e di sottoporsi al vaccino per combattere anche questa quarta ondata della pandemia da covid. Il Molise potrebbe finire in zona gialla, visto il peggioramento della situazione, il rischio è concreto, lo ha confermato anche il presidente della regione ai nostri microfoni. Sentiamo Pierluigi Boragine. 128 comuni alle prese con il contagio, virus sempre più contagioso con Omicron, che avanza ovunque per Asenem, un lavoro incessante. Monitorare e vaccinare l'ordine impartito dal commissario d'acta Donato Toma per contenere il contagio ed evitare lo sforamento dei parametri che costringerebbe il Molise a cambiare colore e passare al giallo. Il rischio c'è, ammette il presidente della regione ai nostri microfoni. Prevedo un monitoraggio più costante, più continuo, più pressante su quello dell'andamento dei contagi. Prevedo che dovremo incrementare, ve lo dico subito, ho dato disposizione di incrementare a più non posso i vaccini perché sono quelli che ci mettono in tranquillità ed in sicurezza. Se ci riusciamo e ci stiamo riuscendo ad incrementare i vaccini, adesso apriamo anche tra oggi e domani ai ragazzini tra i 12 e i 15 anni e se riusciamo a fare quello che abbiamo programmato potremmo anche evitare di passare in zona gialla anche se il rischio c'è. Per fortuna reggono aree mediche e terapie intensive, mentre l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è ben oltre il limite. Toma non esclude l'apertura di altri hub per imprimere un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, anche se le buone intenzioni devono fare i conti con l'atavico problema della carenza di personale. Non è escluso che lo facciamo, vediamo se abbiamo l'esigenza di farlo. Il problema non è tanto aprire i nuovi hub vaccinali, il problema è avere il personale, perché noi tecnicamente potremmo anche avere nuovi hub vaccinali, ma ci vuole il personale. Stiamo reclutando, stiamo continuando a fare concorsi e devo dire che io devo ringraziare sempre i vaccinatori perché sono all'opera in maniera incessante e ci stanno dando delle grandi soddisfazioni. Non dimentichiamo che domenica l'altra, non quella passata, l'altra ancora, abbiamo vaccinato 1.770 bambini e non è poco per le nostre strutture, i nostri hub. Variante Omicron più contagiosa ma meno virulenta ad analizzare i dati è il responsabile della microbiologia del laboratorio del Cardarelli, il dottore Massimiliano Scutella, che sottolinea l'efficacia dei vaccini. Sentiamo Andrea Bertolo. Omicron circola al 97,8% rispetto ai casi di positività. In Molise, come nel resto d'Italia, la nuova variante ha scalzato definitivamente la Delta, portando con sé nuove considerazioni e prospettive. Un dato sembra ormai certo, questa variante a fronte di una maggiore contagiosità è meno virulenta della precedente. In altre parole, a fronte di un maggior numero di positivi, si riscontrano meno criticità sul fronte ai ricoveri. Questo grazie soprattutto alla copertura vaccinale, che riduce l'impatto del virus nell'organismo. A confermare quanto detto, è lo dottor Massimiliano Scutella, responsabile del laboratorio di microbiologia, che in questi giorni sta continuando il lavoro di sequenziamento sui tamponi effettuati alla popolazione molisana. La variazione del virus, spiega Scutella, è un processo naturale e in costante movimento. Omicron è meno aggressiva, ma mantiene una capacità elevata di trasmissione. Molti dei casi riscontrati risultano essere persone asintomatiche. Questo fa ben sperare tutta la comunità scientifica. La previsione, afferma il biologo del Cardarelli, è che tale variante possa trasformarsi nel tempo in una forma ancora meno aggressiva e paragonabile a un'influenza stagionale. Tale ipotesi è condivisa da studiosi e virologi, ma non si può allo stesso tempo escludere l'arrivo di una nuova variante con effetti tutti da verificare. Come detto, il vaccino ha dimostrato ancora efficacia. Gli unici ricoveri gravi sono di persone non immunizzate. Nei pazienti vaccinati, che hanno comunque bisogno di ricovero, c'è spesso concomitanza di altre patologie che rendono il soggetto più suscettibile a infezioni. Sul fronte tamponi antigenici, Scutella sottolinea come in questo momento sia importante l'attività delle farmacie nel dirimere i casi diagnostici, mentre non è più possibile un vero e proprio tracciamento dei casi data l'enorme casistica in corso. L'invito quindi ad utilizzare sempre dispositivi di protezione personale e rispettare il più possibile il distanziamento. La prevenzione resta in ogni caso il miglior modo per evitare la diffusione esponenziale del virus. Ghiaccio e neve hanno fatto ripiombare il piccolo comune in provincia di Serna, Castelpizzuto, nell'isolamento, perché la bretella che era stata allestita ormai è impraticabile e per scendere a valle i cittadini devono avvalersi della protezione civile. È una situazione che è diventata davvero insostenibile. Sentiamo Nicola De Santis. Le rigide temperature di questi giorni hanno provocato nuovi disagi ai cittadini di Castelpizzuto, paese isolato parzialmente, ormai da nove mesi, a causa di una frana che ha distrutto l'unica via di accesso al paese. La bretella realizzata dalla provincia in tempi record col ghiaccio è pressoché impraticabile, soprattutto a causa della pendenza. Così i cittadini di Castelpizzuto sono costretti a lasciare la macchina nei pressi dello stabilimento della Castellina, a valle del piccolo centro, e salgono in paesi a piedi oppure attraverso il servizio navetta approntato dalla protezione civile. Purtroppo è arrivata la neve e del resto anche attesa, ci sono stati gli allerta meteo, quindi l'attendevamo. Abbiamo cercato di organizzarci nel migliore dei modi, però ovviamente le macchine sono state portate nuovamente a valle, la bretella è sostanzialmente impercorribile per via del ghiaccio, per cui servizio navetta e si passa a piedi sulla frana. In caso di necessità i mezzi di soccorso, nell'impossibilità di percorrere la bretella, sono costretti a superare la frana sulla provinciale con l'ausilio dei vigili del fuoco. Una situazione paradossale, qui sembra difficile porre rimedio. Per i mezzi di soccorso resta invariato, vale a dire il passaggio sulla frana, sempre con l'assistenza dei vigili del fuoco, che ovviamente in queste condizioni meteorologiche è assolutamente indispensabile. Qualcosa a livello burocratico si sta muovendo, la regione sembra aver trovato le risorse per mettere in sicurezza il territorio. Ora la provincia dovrà realizzare il progetto esecutivo prima di appaltare i lavori. Realisticamente entro 4-5 mesi le ruspe dovrebbero entrare in azione. Resta il disagio per i cittadini e soprattutto per agricoltori e allevatori che stoicamente hanno deciso di resistere e di restare a Castelpizzuto nonostante le condizioni estreme. Ma ad oggi diciamo che la notizia positiva è che ci sarebbero i finanziamenti. Il presidente Doma mi ha messo al corrente, quindi attendiamo il progetto esecutivo da parte della provincia. Quindi speriamo che in primavera si possa procedere con i lavori. Tragedia spiorata, questa mattina sulla tangenziale est siamo a Campobasso. Un'utilitaria si è scontrata con un tir che trasportava un trattore. La vettura dopo l'impatto si è ribaltata finendo la sua corsa contro il guardrail. Alla guida c'era una donna, soccorsa, trasportata al cardarelli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa inviata dal 118 e la polizia municipale che ora si occuperà di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto anche il personale dell'ANAS. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti su un'arteria che è molto trafficata. Andiamo ora a Disernia dove la squadra mobile ha eseguito due ordinanze di misura cautelare. Parliamo dell'obbligo di dimora e anche del divieto di uscire dal proprio domicilio dalle ore 20 alle 5 del mattino per due giovani, entrambi residenti a Isernia, uno dei quali ha nove rapprecedenti penali per violenza privata aggravata dai futili motivi e danneggiamento, mentre un altro soggetto che è stato destinatario dello stesso provvedimento è in regime di quarantena al momento. e quindi l'ordinanza sarà notificata dopo il periodo di isolamento necessario. Ebbene, questa misura è arrivata dopo le indagini condotte dalla squadra mobile in seguito ai fatti del 24 ottobre scorso, quando intorno alle 3 del mattino un gruppo di giovani devastò un bar della città, minacciò e aggredì il titolare. Il locale stava chiudendo e loro pretendevano di entrare, quindi si sono scagliati contro gli arredi del locale e anche contro il titolare. Erano presenti anche dei testimoni, intervenne il 113, da qui le indagini e poi i provvedimenti che sono stati adottati oggi contro questi soggetti che avevano anche dei precedenti. Stiamo a disegna, parliamo delle elezioni provinciali che si svolgeranno domenica prossima. Alcuni sindaci diserteranno le urne senza lista unica. Ha detto per esempio il primo cittadino di Santa Capito, non c'è rappresentanza per i piccoli comuni che a votare ci vadano i rappresentanti dei centri più grandi. Questa è la provocazione di Giuseppe Di Pilla. Sentiamo. Domenica si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, consultazione di secondo livello slittata di quasi un mese dalla data prevista inizialmente. Per il 18 dicembre il differimento delle operazioni di voto, come noto, è stato sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha riammesso la lista di centrodestra alla competizione elettorale, esclusa prima dall'ufficio elettorale della provincia e poi dal Tarmolise, ed ha disposto il rinvio delle votazioni. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede della provincia di Isernia in via aberta nella Sala Consiglio al primo piano. I componenti del Consiglio provinciale, come noto, sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia di Isernia, in base all'anagrafe elettorale. 593 quindi gli aventi diritto al voto, due le compagini in corsa per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. La lista di centrosinistra, ammessa sin da subito alle elezioni, uniti per la provincia, composta da Cristofero Amicone, Cristoforo Carrino, Anna Di Carlo, Claudio Falcione, Sara Ferri, Carmine Teodoro Iacovetti, Franco Marcovecchio, Vincenzo Pacifico, Angela Perpetua ed Angela Maria Siravo. La lista di centrodestra, la numero 2 sulla scheda, è denominata Autonomia identità ed è composta da Antonella Cernera, Federica Cocozza, Angela Cicerone, Stefania Colardo, Nicola Di Biase, Angelo Monaco, Manolo Sacco, Pierpaolo Di Perna, Vincenzo Scarano e Raimondo Fabrizio. Stando alle previsioni, al netto di franchi tiratori dovrebbe finire 5 a 5. Intanto alcuni sindaci dei piccoli comuni, il cui voto vale poco o nulla, hanno già annunciato che diserteranno le urne. È il caso di Sant'Agapito col primo cittadino che ha dichiarato la lista unica proposta dal presidente Ricci. Era una buona idea per dare rappresentatività ai territori. L'opposizione di alcuni ha inficiato la proposta riducendo la competizione elettorale ad un duello tra grandi centri ed è giusto che a votare ci vadano loro. Si svolgeranno venerdì a Roma i funerali di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo che è venuto a mancare oggi all'età di 65 anni unanime, il cordoglio del mondo della politica italiana, europea. Ci sono le parole dell'eurodeputato molisano Aldo Patriciello. La morte di David Sassoli mi addolora in modo profondo. Ha sempre dimostrato Garbo, signorilità e una grande visione politica sia come semplice deputato sia quando ha ricoperto la presidenza del Parlamento europeo. Era un politico di spessore e una persona splendida. La sua grande umanità mancherà tutti noi con la sua scomparsa. L'Italia perde un grande europeista e l'Europa un grande italiano. La sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare accanto a lui vanno le mie più profonde condoglianze. Queste le parole di Aldo Patriciello. Un messaggio anche da parte del leader del PD Molise, Vittorino Facciolla. Ci lascia una persona capace e garbata che ha rilanciato la funzione del Parlamento europeo. È stato un esempio puro di lealtà, coerenza, educazione e rispetto in ogni ambito della sua vita pubblica e privata. E così come ha scritto il suo staff nel salutare quanti lo hanno conosciuto, resta intatta la forza dei suoi insegnamenti e delle indicazioni. Bisogna ricordare che David Sassoli durante la sua carriera da giornalista ha seguito e raccontato il terremoto di San Giuliano di Puglia e è stato un voto naturalmente del Tg1 prima di entrare in politica. Interruzioni a intervallo di tempo del servizio di emodinamica all'ospedale Santimoteo di Termoli. È attesa la decisione della Camera di Consiglio del Tar prevista nella giornata di domani. Intanto i ricorrenti adottano una nuova strategia per il ripristino totale del servizio. Cambia la strategia dei ricorrenti contro Asrem per quanto riguarda i turni inattivi a singhiozzo nel servizio di emodinamica dell'ospedale Santimoteo di Termoli. Diversamente da quanto messo in atto nei mesi scorsi non ci saranno impugnative o motivi aggiuntivi rispetto alla programmazione del reparto di cardiologia. Saranno invece due le tappe che nel futuro prossimo avanzeranno sulla vicenda. Si prenderà in esame la Camera di Consiglio al Tar Molise in programma domani a cui il presidente del Tar aveva rinviato negando la sospensiva nell'ultima azione poi appellata in secondo grado e la fine del mese con l'attesa consegna dell'istruttoria da parte dell'azienda sanitaria regionale che proprio dalla metà del mese scorso aveva 45 giorni di tempo per spiegare i criteri organizzativi e criticità sulla vicenda. Evidentemente l'adozione dell'atto di programmazione di fine dicembre ha cambiato le carte in tavola obbligando a una diversa strategia legale. Questa mattina alle 8 terminano le 16 ore di mancata copertura comunicate dal direttore di reparto Calgione che erano iniziate ieri alle ore 14. Gli altri turni inattivi ci saranno dalle 20 di domani per 24 ore e infine dalle 20 di sabato 15 gennaio e fino alle 8 della mattina successiva. La SEA SPA comunica ai cittadini di Campobasso che fino al 31 gennaio salvo diverse disposizioni è sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio che viene offerto gratuitamente dall'azienda. La decisione è stata presa in seguito alla recrudescenza della pandemia che sta interessando anche il territorio di Campobasso naturalmente in maniera importante e per tutelare maggiormente i lavoratori e i cittadini. Si ricorda comunque che è possibile in ogni caso conferire i rifiuti ingombranti recandosi con un mezzo proprio al centro comunale di raccolta che si trova in località Santa Maria de Foras nei giorni e negli orari di apertura, cioè tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13. Quindi è sospeso per il momento il servizio porta a porta ma resta attivo il punto di raccolta di Santa Maria de Foras. Parliamo ora del nostro palinsesto domani alle 21 e in replica giovedì alle 11 e nel pomeriggio alle 16 vi aspetta il film Radio Autonomia, pellicola di Francesco Millonzi che documenta, racconta la vita e la cronaca dell'uccisione di Peppino impastato. Non perdete questo appuntamento con un grande docufilm, domani sera alle 21, ve lo ripeto, e poi in replica giovedì alle 11 e alle 16 su Teleregione. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per mercoledì 12 gennaio sul Molise si rinforza il vortice freddo, foriero di nevicate anche a bassa quota, venti ancora forti, mare molto mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione, campo basso meno 3, 0, Isernia meno 1, 6, termoli, 4, 9, venafro meno 2, 6 gradi. Solo qualche istante di pausa, non andate via, tra poco lo sport. Ed eccoci ritrovati per parlare di sport, ci sono buone notizie per il campo basso calcio, perché due dei calciatori che rientravano tra i complessivi 5 positivi al Covid si sono negativizzati e quindi possono tornare ad allenarsi agli ordini di mister Cudini. Sentiamo Pierluigi Boragine. Primo importante risponso dopo il secondo giro di tamponi che ha riguardato i calciatori del campo basso. I positivi sono scesi da 5 a 3, due giocatori si sono negativizzati e sono tornati ad allenarsi agli ordini di mister Cudini. Una buona notizia per staff tecnico e società che attendevano con trepidazione il risponso degli esami svolti dall'Asrem. I tre calciatori, i cui tamponi molecolari sono risultati ancora positivi, restano in isolamento. Mister Cudini intanto è concentratissimo sul prossimo impegno, la gara casalinga del 23 gennaio al Romagnoli contro la Juve Stabia. Per quell'occasione il trainer vorrebbe avere tutti a disposizione e la possibilità di mettere in campo la migliore formazione. La pausa forzata permetterà al gruppo di lavorare con grande intensità per creare le migliori condizioni per disputare un girone di ritorno degno della piazza e in linea con le ammizioni del club. Lutto a campo basso è venuto a mancare bambino modesto Pucella, lo storico magazziniere del campo basso calcio. Nato il 30 dicembre del 45, bambino era sposato, aveva tre figli ed era nonno di quattro nipoti. Ha lavorato una vita intera per la Rizzi Enzuin, poi ha svolto le mansioni di custode dello stadio Romagnoli. Simpaticissimo, sempre pronto a scherzare con dirigenti e giocatori che si sono succeduti negli anni, questo è il ricordo del collega Nicola De Santis che lo ha conosciuto molto bene. Bambino era di oratino, viveva però a campo basso, andava d'accordo davvero con tutti, era una persona amata, aveva festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio con la signora Laura. Custode quindi, magazziniere, poi al Romagnoli con Rizzi Presidente, poi col triunvirato composto sempre da Rizzi a campo e Palladino ha lavorato al Romagnoli anche con la gestione Capone. Un abbraccio alla famiglia da parte nostra. Per il calcio di Serie D parliamo del Vasto Girardi che è atteso da due settimane di duro lavoro per preparare il girone di ritorno. Sentiamo allora come si sta impegnando la squadra. Due settimane dedicate ad un grande lavoro in vista di un girone di ritorno nel quale il questo Girardi vuole essere protagonista. Ruggeri e soci nel quartier generale di Fornelli riprendono gli allenamenti dopo alcuni giorni di meritato riposo e con alle spalle i tre successi casalinghi consecutivi che hanno proiettato i giallo-blu nella colonna di sinistra della classifica in piena corsa playoff. Il presidente Andrea Di Lucente non si illude e sa bene che il cammino è ancora molto lungo ma nel contempo si gode le prestazioni dei suoi ragazzi capaci di mandare al tappeto dirette concorrenti ma anche formazioni blasonate come il Trastevere. I giallo-blu non hanno positivi in organico e dunque contano di sfruttare le due settimane di stop per effettuare un lavoro di ripristino che possa permettere di arrivare nel momento decisivo della stagione in condizioni ottimali. Allenamenti che serviranno a preparare dettagliatamente il match in programma Castelnuovo Vomano il 23 gennaio, match valido come ultima del girone di andata. Un'altra ghiotta occasione per fare un passo decisivo verso la salvezza e continuare a scalare la classifica. I terramani infatti sono una buona squadra ma decisamente alla portata degli altomolisani sempre più trascinati da un guida in forma smaiante. Con questo servizio si chiude l'edizione del TG News che vi ricordo potete rivedere online sul nostro sito teleregionemolise.it potete rivedere anche i singoli servizi. Grazie di essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.